Un saluto agli amici di Inside Marketing. Oggi a Salerno, all'e-commerce hub, ho parlato di semantica rispetto al posizionamento degli e-commerce. Ho introdotto le riflessioni sulla semantica non strutturata, ho ragionato della differenza tra il web semantico e la semantica intesa per come la intende chi studia la semantica rispetto alle persone. L'interesse è capire come sviluppare significati trasversali per le pagine che non sono le pagine prodotte dei nostri siti e-commerce, ma le pagine che sviluppano contenuti tali da intercettare intenzioni di ricerca diverse e interessanti per le stesse persone che hanno interesse nelle nostre chiavi di ricerca obiettivo. L'idea quindi sintetizzata è quella di smettere di guardare semplicemente in profondità attraverso i software che utilizziamo tutti per la keyword research, ma provare a fare uno sforzo diverso, provare a guardare attraverso la query, provare a cercare a farsi una buona domanda, cioè a chiedersi non soltanto come funziona qualcosa, ma anche perché funziona qualcosa in un certo modo. Che cos'altro interessa alle stesse persone? Allora le nostre pagine web possono trasformarsi in vettori, vettori semantici che collegano argomenti di tipo diverso, ma interessanti per le stesse persone. Questo è stato il mio piacere, incontrare tutti gli amici di Inside Marketing e quelli che sono venuti a e-commerce hub. E allora io saluto tutti e vi aspetto per il prossimo evento. Ciao! 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 Grazie a tutti